Per favore! Andate! Sospetto in un veicolo! Sospetto in un veicolo! Sospetto in volo nel settore 5! Arriva il giustiziere! Servono anche il progetto! Sospetto in un veicolo! Sospetto nel settore 6! Accessi vietato! Battuglia venta settore 9! Sospetto non in vista! Lecloch! Sospetto non in vista! 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 Sangue non in vista! No, il viaggio è possibile! La città in stato d'allerta, che diavolo avete combinato? E noi? Niente, abbiamo fatto solo un giretto, vero Jack? Davvero? Allora perché le guardie Crimsy stanno cercando un giovane pericoloso che ha i capelli chiari, una giacca blu e un isterico topo arancione sulla spalla? Ah, beh può trattarsi di chiunque, l'arancione è molto di moda quest'anno. Senti, siamo stati nel palazzo del barone e così è scattato qualche allarme. Ah, giusto, è vero! Che cosa? Io non avevo autorizzato un attacco a... E gli abbiamo solo dato una lezione. Purtroppo il barone ci è scappato. E sapete che stavo organizzando un incontro segreto col capo delle teste di metallo? Avete visto il capo delle teste di metallo? No, perché utilizzava un comunicatore. Ma abbiamo sentito quello che diceva il barone. Il barone corrompe le teste di metallo con l'eco! Ah, e ne vorranno sempre di più. Già, ma il barone sta per tradirli! Ah, allora è così. Beh, le buone maniere del barone devono aver fatto arrabbiare parecchia gente, perché dal deserto giunge voce che le armate delle teste di metallo sono di nuovo in marcia. Perché non mi avevi detto che Ashlyn è figlia di Praxis? Che rapporti avete con lei? Questi non sono affari tuoi. Visto che avete sollevato un bel vespaio, tu e Codalunga dovrete trasportare quattro dei nostri nei nuovi nascondigli. Porta ciascun agente nel luogo che ti verrà indicato. Devono arrivare a destinazione senza perdite. Non fare casini, check. A causa delle recenti, eh, difficoltà, questa città ha bisogno di un nuovo reclutatore. Via, via, via! Via, 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 via! Via, via, via! Via, 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 via! Via, 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 via! Un minuto. Fermo! Per favore! Fermo! Viavano Tridelcat! Muoviti! Sono contento che tu sia dei nostri! Arrestatevi! Si è così solo il comando! E guardatevi! Suonate l'allarme! Sparatevi! Sparatevi! Per favore! Bene, andiamo! Sospetto i nostri! Suonate l'allarme! Sospetto il volo del 725! Fuori dal veicolo! Ci vediamo al prossimo veicolo! Per favore! Avanziamo! Sospetto dei suoi! Fuori dal veicolo! Dai lontano da me! Sospetto dei suoi! Fuori dal veicolo! Sospetto dei suoi! Sospetto dei suoi! Muoviti come se sapessi cosa fai! Fermo! Sospetto di veicolo! Sospetto dei suoi! L'operazione è stata un successo, il mondo sotterraneo è salvo. Tornate alla scopi, io ho una nuova missione per voi, mentre aspettiamo che l'emergenza rientri. Passa il settore successivo. Le teste di metallo ti hanno sempre tenuto, giovane pieno di rabbia. Il comandante delle teste di metallo ha capito che tu puoi distruggerlo e salvare la nostra razza. Ora hai il controllo di un altro potere oscuro. Attività sospente! Abondando le tassi! Ho un'epoca! La scopo è una scopo! La scopo è avuta le tassi! La scopo è avuta l'arrivo! L'arrivo! La scopo è avuta la scopo! La scopo è avuta l'arrivo! Un'attività sospetta in questo settore. Un'attività sospetta. Ci segnalano del movimento nella città morta. Alcune creature vanno verso il luogo sacro proprio come un tempo. E che cosa è accaduto a quel tempo? Le teste di metallo hanno aperto una breccia nelle mura. Ci siamo difesi, ma poi il barone si è ritirato lasciando morire quelli che erano oltre la nuova barriera. Solo l'ombra è rimasto ed è riuscito a fermare l'attacco. E ora ti aspetti che noi andiamo di nuovo là fuori? Vedo che capisci al volo. Se impedirete alle teste di metallo di raggiungere il luogo sacro, credo che l'ombra vi sarà molto riconoscente. Potrebbe anche chiedervi un incontro. Ehi! Probabilmente è del tutto sprecato. Ma vi do una canna da vulcan per il vostro spara piselli. Tenetevela stretta. Ne avrete bisogno. Per il vostro spazio Per il vostro spazio Esci dalla zona di sicurezza. Esci dalla zona di sicurezza. Per il vostro spazio 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 Per il vostro spazio